Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Shhh! Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. god! Non ci riguardava più oltre. Devo occuparmene io? Bravo. Di qua. Faye. Faye? Faye! Faye! Rimane poco tempo, amore mio. E c'è molto da fare. Atteno! Atteno! Dov'è Atreus? È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo. E non è tornato. Non sarà lontano. Dov'è lontancio-